Ieri sono andato a cercare questo abate, ho incontrato quelli dalla mobile, ma tu che sai questo abate? Che sto cercando? Lo dico, lo dico. Tu hai rotto il cazzo Carminelli? Così, non puoi fare niente, però quei quattro voi lo dico, lo dicono, le dicono che Carminelli sta cercando abate in tribunale, qua giravolo là sotto, lo trovo due più fatti, ho detto ma abate dove sta? Sta camminando, non puol cazzo, lui ho detto il cazzo, io non puol cazzo, se non c'è più possibilità che spacci te, piuttosto che faccio io, ma non sappiamo, non sai, non sai, la notiziale ti dà, mi ha detto non è roba nostra, dunque ho detto sto cercando abate, tutte le mattine vengo qui così, questa mattina è stato lì, tutte le mattine vengo qui a cercare abate. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.